L'economia canadese si è ampiamente ripresa dalla crisi pandemica. La domanda interna è ripresa a seguito dell'alentamento delle misure di contenimento. Le esportazioni dovrebbero rafforzarsi e la domanda di materie prime sosterrà il commercio in mezzo agli shock per la crescita mondiale. Limitati legami commerciali con le economie duramente colpite dalla guerra in Ucraina e le entrate derivate dai prezzi elevati delle risorse proteggono il Canada da maggiori impatti. Si prevede che il PIL reale crescerà del 3,8% nel 2022 e del 2,6% nel 2023. La disoccupazione rimarrà bassa poiché la produzione aumenterà leggermente al di sopra del potenziale. Le tensioni sull'offerta globale manterranno alta la crescita dei prezzi quest'anno aggravando le pressioni inflazionistiche sottostanti. Per cui per un investitore da dividendo come me potrebbe essere un buon paese per andare a metterci il becco dei dividendi. E oggi voglio dare 5 azioni da dividendo canadesi che sono nella mia watchlist e magari anche nel mio portafoglio ma ti dico tutto quanto subito dopo la sigla. Ciao a tutti bentornati sul canale io risparmio io sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi. Come sempre dividendi 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 in questo periodo io li amo tanto ed il Canada è uno di quei paesi che ha veramente poca considerazione ma è un grave errore a mio parere. Oggi voglio darti 5 aziende che io ho in watchlist o magari anche in portafoglio con buoni dividendi e con discrete possibilità di crescita del capital gain sempre ricordando che questi non sono consigli finanziari ma semplici spunti di riflessione fai sempre le tue considerazioni. Inoltre queste aziende sono molte volte rischiose per cui mi raccomando studiale bene se proprio vuoi approfondirle. La prima è Enbridge. Enbridge opera come società di infrastrutture energetiche. L'azienda opera attraverso cinque segmenti liquid pipelines, gas and transmission and bitstream, gas distribution and storage renewable power generation e infine energy services. Il primo segmento quello delle liquid pipelines gestisce oleodotti e relativi terminali per il trasporto di vari tipi di petrolio greggio e altri due colponi liquidi sia in Canada che negli Stati Uniti d'America. Il secondo segmento gas transmission e millstream invece investe in gas dot e impianti di raccolta e trattamento in Canada e negli Stati Uniti d'America. Il terzo segmento quello dello stoccaggio del gas è coinvolto in operazioni di servizi pubblici di gas naturale che è al servizio dei clienti residenziali commerciali e industriali in Ontario nonché in attività di distribuzione di gas naturale e trasporto di energia in Quebec. Il quarto segmento renewable power generation gestisce asset di generazioni di energia come da impianti eolici, solari, geotermici e di recupero del calore di scarto e un asset di trasmissione sia in nordamerica che in Europa. Il segmento dei servizi energetici fornisce servizi di marketing energetico a raffinerie, produttori ed altri clienti e servizi logistici e di marketing di merci fisiche sia in Canada che negli Stati Uniti. La società era precedentemente nota come IPL Energy e ha cambiato il nome in Enbridge nell'ottobre del 1998. Al presso di oggi Enbridge ha un dividend yield del 6,5% e un rapporto di copertura piuttosto sbilanciato in quanto utilizza troppi soldi per coprire il proprio dividendo. Infatti il suo payout ratio è del 117%. Ha praticamente poco cash ma in quanto ha infrastrutture e offre una buona copertura degli asset sulle proprie passività. L'azienda ha comunque ottime prospettive di crescita sia in relazione del fatturato che dei propri earnings. La seconda azienda è Keira. Keira Corporation si occupa di infrastrutture energetiche in Canada. L'azienda opera attraverso segmenti di Gathering Processing, Liquid Infrastructure e Marketing Segments. Il primo segmento di Gathering Processing possiede e gestisce condotti di impianti di trattamento per la raccolta del gas grezzo che raccolgono e trattano il gas naturale grezzo, rimuovono i prodotti di scarto e separano i componenti, principalmente liquidi, di gas naturale. Fornisce servizi e gestione della condensa. Questo segmento ha circa 4.400 km di gas dotti di raccolta e detiene partecipazione in 12 impianti di gas attivi ad Alberta. Il secondo segmento, quello di Liquids Infrastructure, fornisce servizi di raccolta, elaborazione, frazionamento, stoccaggio, trasporto, miscelazione di liquidi e terminaling per i liquidi di gas naturale e inoltre anche per il petrolio greggio attraverso una rete di strutture che include caverne di stoccaggio di gas naturale liquido sotterranei, nonché terminal ferroviari, camion, impianti di miscelazione. Ha un impianto inoltre d'Alberta che si chiama Envy Refuels e questo segmento produce anche isoottano. Il segmento marketing si occupa della commercializzazione di propano, butano condensato e isottano, nonché di attività di miscelazione dei liquidi. Al prezzo di oggi Keyer ha un dividend yield del 6,71% e un rapporto di copertura dei dividendi, anche in questo caso piuttosto sbilanciato, con un pre-out ratio che sfiora il 120%. Azienda che è prevista che esce in maniera interessante sia in termini di earnings che di fatturato, con una situazione finanziaria praticamente speculare a quella di Envyge, con poco cash ma anche con molte infrastrutture che riescono a coprire ampiamente le proprie passibilità. Per la terza azienda chi mi segue sa che ce l'ho in portafoglio e parlo di Pembina Pipeline, ringrazio anche Federico per avermi citato in un video recente. Pembina Pipeline fornisce servizi di trasporto in midstream per l'industria energetica. Opera attraverso tre segmenti, pipelines, facilities and marketing e new ventures. Il segmento pipelines gestisce convenzionali, sabbie, bituminose, petrolio pesante e mezzi di trasmissione, con una capacità di trasporto di circa di 3,1 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, con stoccaggio a terra di 11 milioni di barili e capacità di termine a ferroviari di circa 105 migliaia di barili di petrolio equivalente al giorno, che serve ai mercati dei bacini di tutto il Nord America. Il segmento facilities offre infrastrutture che forniscono ai clienti gas naturale condensato in liquidi di gas naturale ed NGL, inclusi etano, propano, butano e condensato e comprende 354 milioni di barili al giorno di capacità di fazionamento di NGL, 21 milioni di barili di capacità di stoccaggio in caverne e strutture associate di termine a ferroviari e di gasdotti. Il segmento di marketing e new ventures acquista e vende idrogaburi, liquidi e gas naturale, originali del bacino sedimentare del Canada occidentale e anche di altri bacini. Al prezzo di oggi per Mila Pipeline ha un dividend yield del 5,84% e un rapporto di copertura dei dividendi anche in questo caso sbilanciato, ma meglio delle altre due, con un payout che si vale il 110%. Azienda che è piuttosto stagnante in termini di crescita, ma che ha un'ottima comunque posizione di mercato. Fra le tre viste finora è quella con i conti più in ordine, avendo moltissime infrastrutture che fanno asset e che vanno a coprire le passività in maniera importante. La quarta azienda è Transalta Renewables, che sviluppa, possiede gestisce impianti di generazione di energie rinnovabili. La società opera attraverso i segmenti Canadian Wind, Canadian Hydro, Canadian Gas, US Wind & Solar, US Gas & Australian Gas. Al 24 febbraio del 2022, per cui roba recente, possiedeva e gestiva 26 impianti eolici, 13 impianti idroelettrici, 8 impianti di produzione di gas naturale, 2 impianti solari, un gas d'otto e un progetto di accumulo di batterie comprendente 2.968 MW di capacità di generazione, situate nella provincia della Columbia Britannica, Alberta, Ontario, Quebec, New Bruce Beach, Stati della Pennsylvania, New Hampshire, Wyoming, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Washington, Carolina del Nord e Stato dell'Australia occidentale. Dappertutto. Al prezzo di oggi Transalta ha un dividend yield del 5,66% e un rapporto di copertura di dividendi molto più sbilanciato delle altre, con un payout ratio che sfiora il 195%. Azienda che è prevista crescere tantissimo nei prossimi anni, soprattutto in termini di earnings e con una situazione finanziaria piuttosto solida, con le passività, che sono la metà di tutti gli asset, soprattutto quelli infrastrutturali, quelli a lungo termine. Per la quinta azienda, anche per questa, per chi mi segue, sa che ce l'ho in portafoglio, praticamente da sempre e parlo di Banco Nova Scozia. La Bank of Nova Scozia fornisce vari prodotti e servizi bancari in Canada, Stati Uniti, Messico, Peru, Cile, Colombia, Caraibi e America Centrale e anche in alcuni casi a livello internazionale. Ha quattro segmenti diversi, Canadian Banking, International Banking, Global Wealth Management e Global Marketing and Markets. L'azienda offre consulenze e soluzioni finanziarie e prodotti bancari quotidiani comprese le carte di debito e di credito, conti correnti e di risparmio, investimenti, mutui, prestiti e assicurazioni a privati, soluzioni di business banking che comprendono anche prestiti e depositi, gestione della liquidità e soluzioni di finanziamento commerciale per le piccole, medie e grandi imprese, comprese anche delle soluzioni di finanziamento automobilistico per divenditori e clienti. Banco Nova Scozia gestisce una rete di 954 filiali e circa 3.766 portelli bancari automatizzati in Canada e circa 1.300 filiali e una rete di centri di contatto di supporto a livello internazionale. Al prezzo di oggi Banco Nova Scozia fornisce un rendimento da dividendo del 5,45% con un'ottima copertura che sta intorno al 45% di PEO trazio. Essendo un bancario ci si aspetta una crescita nella media non particolarmente cersa in termini di earnings e di fatturato ma pur sempre crescita è e comunque il capital gain negli anni è stato molto interessante. Situazione finanziaria che fra asset e liquidità è di circa una volta e mezzo le passività per cui un'ottima situazione finanziaria solida e si spera duratura. Bene fammi sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi di queste aziende mi farebbe molto piacere avere un feedback da parte di tutti voi in watchlist o in portafoglio o non avevi mai sentito parlare. O se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo come sempre poca cortesia di farmelo sapere con un bel pollicione in su per l'algoritmo di youtube ma anche per me stesso. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun nuovo contenuto successivo iscriviti e clicca la campanella delle notifiche. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao Ciao Ciao